Ben trovati e ben trovate ad una nuova puntata di Mattino Insieme. Saluto subito il primo ospite della puntata di oggi, il giornalista Augusto Goio di Vita Trentina. Ben arrivato nei nostri studi e siamo qui anche questa mattina per stare quest'ora assieme a voi. Abbiamo visto questa mattina una giornata davvero impegnativa per quanto riguarda il traffico in provincia. Ci sono un po' di code dappertutto, naturalmente in primis sulla statale, come sempre della Val Sugana, che molto spesso mette a dura prova gli automobilisti, ma anche la Gardesana oggi è in difficoltà. Insomma, una giornata che vogliamo definire di passione. Forse siamo esagerati, ma insomma è bene sottolinearlo. E speriamo appunto che la situazione mano a mano si possa risolvere e possa cambiare. Allora, Augusto, grazie di essere qui con noi questa mattina. Dunque, commentiamo le notizie di oggi su Vita Trentina, oggi in edicola, e direi proprio di partire dalla montagna. Ecco, vediamo questo articolo. La montagna chiama dal progetto di co-living. Ecco, voi siete partiti proprio da questo. È stato un progetto che è partito da Luserna ancora mesi fa. Adesso si guarda a Canal San Bovo, ma ci sono altre realtà che sono interessate. Perché questo è molto importante. Sappiamo che la montagna deve essere vissuta, quindi devono esserci le condizioni favorevoli perché le persone possano rimanere in montagna. Quindi diciamo che è un'azione importante, direi, per salvaguardare la montagna. Certamente si parla molto di come salvaguardare le terre alte. È un discorso complesso. Si parla molto, ma ci sono anche dei fatti concreti. Il progetto co-living è uno di questi. Siamo andati a vedere con il nostro Marco Mazzurana a Luserna, questa realtà dove il progetto è partito. E come dicevi giustamente tu, Marilena, a breve altre realtà, in primis Canal San Bovo, seguiranno questa strada. Di cosa si tratta? È una facilitazione per coppie giovani con bambini. È stato fatto un bando, ben 38 le domande di partecipazione, 4 le famiglie poi selezionate, anche in base alla loro motivazione, alla loro voglia proprio di abitare le terre alte. E quindi si è partita a Luserna e siamo andati a vedere appunto questa esperienza. Ne parla anche il dirigente provinciale Luciano Malfer dell'Agenzia per la Famiglia. È un'idea appunto quella di facilitare la possibilità di abitare in montagna. Luserna era una realtà, ricorda il nostro collega Marco Mazzurana di 750 abitanti. Ne ha parlato anche con chi ha seguito fin dall'inizio questo progetto, che appunto è partito in questi mesi, ma ha dietro una storia di alcuni anni. Naturalmente le cose non nascono per caso. Ne ha parlato con Andrea Nicolussi Golo, che spiega appunto le possibilità offerte da questo progetto, che in sostanza mette a disposizione, con il concorso del Comune, dell'Itea, degli appartamenti. Alcune di queste persone hanno trovato occupazione, o proseguono quella che già avevano, anche facilitati dalle possibilità che abbiamo sperimentato in questo periodo di pandemia, dei collegamenti con la fibra. E in ogni caso è bello, sottolineiamo in questo servizio, vedere anche dei bambini che abitano le strade di Luserna. E se mi permette un'ultima considerazione, c'è in questi giorni proprio a Luserna una mostra sugli antichi abitanti cimbri, sulla pre-storia degli altipiani cimbri. E da questi primi abitanti siamo andati a vedere e i lettori troveranno anche il racconto della vita dei nuovi abitanti, che speriamo che anche in altre realtà del Trentino possano rivitalizzare appunto la montagna. Certo, abbiamo visto che è un progetto che interessa, che anche altre realtà vogliono sperimentare. E certamente la presenza di queste famiglie giovani che naturalmente poi mettono al mondo dei figli è un segnale di speranza, perché sappiamo che la vita in montagna è difficile, anche per gli spostamenti. Ecco, come hai ben sottolineato tu, il fatto della fibra, della possibilità di lavorare da remoto, certamente può essere anche un incentivo maggiore. Sì, c'è anche una considerazione a fare sulla indubitabile miglior qualità della vita. una di queste famiglie viene da Padova e non farebbe per ora il cambio. Ricordiamo anche che questo progetto impegna queste famiglie per quattro anni, però ci sono tutte le condizioni, perché in realtà poi si tratti di un insediamento anche più stabile, più prolungato nel tempo. Certamente poi dipende anche da come le persone riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, ma insomma in Trentino solitamente non abbiamo ecco queste problematiche accentuate. Allora, parlando poi anche di novità, ecco, sempre su Vita Trentina, oggi nelle pagine interne, affrontate un altro argomento, ovvero quello del nuovo centro di salute mentale che è stato realizzato proprio a Trento. Ecco, vediamo il richiamo della prima pagina e proprio nell'ex struttura dove era ospitato l'istituto scolastico Maria Bambina. Ecco, vediamo questo articolo allora. Sì, è un servizio che ho seguito io in particolare. Siamo andati, secondo anche le recenti indicazioni del messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Nel nostro mestiere, lo sai benissimo anche tu Marilena, è importante andare e vedere e non accontentarsi di quello che viene passato magari dagli uffici stampa. In questo caso, grazie alla disponibilità anche del primario del servizio di salute mentale, il dottor Marco Goglio, siamo andati a vedere appunto una mattina in questa nuova sede che è appunto nell'ex convento di Maria Bambina, una collocazione strategica nel centro della città e vogliamo sottolineare proprio questo perché è importante, come ci ha detto il primario del servizio, che queste realtà, queste anche situazioni di disagio che possono essere più o meno gravi non vengano tenute nascoste ma devono essere proprio al centro della comunità, la comunità che si fa carico un po' delle sofferenze di tutti, in questo senso direi che continua una bella tradizione anche della salute mentale trentina, avviata una ventina d'anni fa con le iniziative e le idee del fare assieme, come viene definito, che hanno fatto scuola anche altrove e lo stesso primario Goglio aveva portato questa esperienza anche in Lombardia dove era occupato precedentemente. Qua da un paio d'anni in questa nuova sede abbiamo trovato degli spazi molto dignitosi, belli, accoglienti e da sottolineare anche l'aspetto che sono gli stessi utenti che si occupano dell'accoglienza di alcuni servizi attraverso anche un'associazione, una realtà, il cerchio che li occupa e che dà loro la possibilità per esempio di gestire il piccolo bar interno che diventa un luogo accogliente dove appunto, come abbiamo sottolineato in uno dei servizi, si cura il benessere, lo stare bene di chi anche ha un momento di sofferenza che può anche capitare a chiunque nella vita. Certo, quindi un nuovo modo anche di vivere questa situazione anche un coinvolgimento delle persone che non vengono messe da parte o comunque trattate in una maniera diversa in modo che si possano poi sentire diversi ma sono coinvolti anche nella città e anche in qualche attività che li fa sentire comunque partecipi e questo sicuramente è molto importante. Stiamo proprio sull'attualità Augusto perché nelle ore scorse l'assessora Segnana ha incontrato comuni e comunità di valle così stiamo ancora sul territorio comuni e comunità di valle per spingere sulle vaccinazioni perché noi lo ribadiamo sempre nelle nostre trasmissioni che per uscire da questa difficile situazione della pandemia bisogna vaccinarsi e non ce ne vogliano i contrari se seguiamo questa linea. Sentiamo che cosa ha detto l'assessora Segnana proprio ai comuni e alle comunità di valle per sensibilizzare la vaccinazione per gli over 60 perché sono quella fascia più a rischio. Vediamo il servizio. Incontro alla sede del Consiglio dell'autonomia dell'assessora Stefania Segnana e del direttore sanitario dell'azienda Antonio Ferro con i sindaci e i commissari delle comunità di valle del Trentino è stato fatto il punto sulla campagna vaccinale nei diversi territori l'obiettivo ha detto l'assessora era di chiedere agli enti locali un sostegno per spingere le vaccinazioni la copertura vaccinale media della popolazione trentina è buona ma la situazione è a macchia di leopardo ci sono quindi molte persone ancora nelle categorie fragili gli over 60 che non hanno ricevuto il vaccino l'obiettivo della provincia dell'azienda sanitaria è quello di aumentare la percentuale di chi è vaccinato per poter proteggere la popolazione più a rischio anche da una possibile ripresa della circolazione del virus in ottobre e tenere in sicurezza il sistema sanitario e ospedaliero il dottor Antonio Ferro ha messo in evidenza come la copertura vaccinale provinciale vede attualmente una prima dose per il 54% della popolazione vaccinabile ovvero gli over 16 a livello provinciale la copertura vaccinale per ora è al 95% per gli over 80 all'86% per la fascia 70-79 al 79% per la fascia 60-69 mentre è al 69% per quella tra i 50 e i 59 anni percentuali buone ma restano ancora circa 24.000 soggetti da vaccinare negli over 60 riteniamo che sia fondamentale la copertura vaccinale nelle classi di età più a rischio e quindi chiediamo la collaborazione di chi il territorio lo vive in prima persona abbiamo sentito dunque agosto 24.000 tra gli over 60 che ancora non si sono vaccinati dunque ecco il coinvolgimento proprio di sindaci e commissari delle comunità di valle per spingere su questa fascia abbiamo visto poi anche oggi lo riportano anche le cronache che ci sono delle valli in particolare quelle più turistiche Fiemme Fassa piuttosto che il Garda o anche il Primiero che hanno una bassa percentuale rispetto naturalmente alle altre zone limitrofe e magari sono delle zone turistiche quindi sarebbe più importante ancora più importante la vaccinazione Sì rispetto a questo vorrei segnalare anche un intervento che ospitiamo molto ragionato e pensato del dottor Dino Pedrotti lo ospitiamo nelle nostre pagine di dialogo aperto in cui sottolinea che la libertà di cura non è una libertà di far male agli altri quindi con una serie di ragionamenti che lui da insomma neonatologo di chiara fama anche se oggi è alla soglia dei 90 anni però con una grande lucidità richiama una serie di considerazioni che ribadiscono l'importanza del vaccino forse le generazioni più giovani non ricordano i danni della poliomielite che oggi è praticamente completamente debellata cioè sicuramente nel nostro paese rimane in alcuni paesi del mondo ma questa importanza di vaccinarsi va sottolineata in tutti i modi di fronte a una pandemia che come ha ricordato anche il vescovo Lauro Tisi qui torna un altro servizio del settimanale in cui parliamo della celebrazione che c'è stata alla casa di riposo del Ciderer di Trento martedì 15 giugno ha voluto ricordare i nostri anziani morti appunto durante la pandemia nei mesi più terribili del del covid 19 a proprio riguardo abbiamo il servizio che vogliamo sentire proprio la la cerimonia che si è svolta proprio nelle ore scorse alla RSA beato Decider sentiamo il servizio di Chiara Marsilli covid free due parole che ora dopo 15 mesi di pandemia suonano come la fine di un incubo ancora di più se risuonano in un contesto tanto delicato e colpito dalla pandemia come può essere un RSA a pronunciarle è la presidente dell'APSP Beato da Ciderer struttura per anziani di recente inaugurazione in via Piave Eleonora Stenico finalmente si può dire oggi è una giornata di speranza e di festa vuole essere anche una giornata di ricordo perché l'anno e mezzo i 15 mesi che abbiamo passato hanno colpito duro hanno colpito duro noi come tutte le strutture le RSA del Trentino vogliamo guardare avanti finalmente le visite la struttura è un pochino aperta tutti gli oltre 160 residenti sono ora vaccinati dei quasi 130 operatori sanitari ne mancano all'appello meno di 10 e non sono a contatto diretto con gli ospiti con queste misure di sicurezza le visite sono riprese in presenza con la possibilità per i parenti vaccinati di tornare ad abbracciare i propri cari dopo tanto tempo per chi è vaccinato è possibile anche fare un piccolo giretto insomma nel giardino quindi un pochino di normalità gradualmente cerchiamo di favorirla per celebrare il ritorno alla normalità ma anche per ricordare i quasi 50 decessi avvenuti negli ultimi mesi il vescovo Lauro Tisi ha celebrato messa e ha incontrato gli ospiti prendendo parte a una cerimonia piccola ma significativa nel giardino interno dell'RSA è stato messo a dimora una pianta di ulivo accompagnata da una targa a memoria di coloro che non hanno superato la pandemia ecco dunque un messaggio comunque di speranza quello che esce anche per la pianta diciamo che è stata proprio posta nel giardino un messaggio di speranza di uscita da questo periodo davvero buio che ha provocato tanti decessi soprattutto all'interno delle RSA ci avviamo verso la chiusura Augusto vorrei ancora però parlare di due argomenti con te cambiamo un po' insomma argomento per ampliare la nostra conversazione ecco sempre nel numero che esce questa settimana di vita a Trentina parlate di estate perché l'estate lo sappiamo insomma ormai è alle porte tutti la stiamo aspettando con ansia con gioia dopo questi mesi di chiusura abbiamo tante aspettative anche se non dobbiamo mai dimenticare di essere prudenti perché non dobbiamo poi correre il rischio in autunno di ritornare nell'incubo ecco e voi avete proprio preparato e predisposto degli itinerari no? degli itinerari all'aria aperta per l'estate alla portata di tutti sì leggeriamo un po' rispetto ai temi che abbiamo trattato precedentemente sono una serie di percorsi curati dal cartografo Augusto Cavazzani che ci portano in diverse località del Trentino abbiamo pensato a dei percorsi alla portata di tutti anche delle famiglie con bambini piccoli magari questa prima puntata che inaugura questa serie che ci accompagnerà sulle pagine del settimane di Ocesano fino alla fine di agosto andiamo in Valle di Cembra alle piramidi di terra di Segonzano nei boschi della zona con un percorso che sicuramente può essere molto piacevole da percorrere appunto dei momenti per certo non dimenticare quello che è stato ma in qualche modo per avviarci a una ripartenza che richiede sicuramente anche così dei momenti magari di piacevoli insieme alla alla famiglia certamente quindi suggerite degli itinerari ricordo che anche noi abbiamo davvero tante trasmissioni che vi suggeriscono ecco dei percorsi delle gite fuori porta da fare tra l'altro ricordiamo a breve inizierà anche la trasmissione dedicata ai rifugi e alle malghe con il mese di luglio sono quelle trasmissioni davvero che sono molto attese proprio per perché danno anche dei suggerimenti su come organizzare la propria giornata dedicata al tempo libero chiudiamo davvero adesso Augusto e parliamo delle nuove nomine dei sacerdoti che diciamo sono stati proprio nominati dall'arcivescovo Monsignor Tisi ecco tutte le nomine lo vediamo proprio in prima pagina sì penso ci sarà attesa in particolare nei nostri paesi nelle nostre valli per sapere se diciamo i parroci vengono spostati o meno ci sono delle importanti novità che i lettori troveranno nelle pagine del giornale una su tutte Don Vincenzo Lupoli lo evidenziamo anche in prima pagina lascia l'unità pastorale di Condino e Pieve di Bono e seguirà una nuova iniziativa diocesana una casa per le vocazioni che troverà posto nella canonica del Sacro Cuore in Viale Verona a Trento una proposta dove i giovani o meno insomma in cerca di una loro vocazione prima di entrare in seminario potranno avere un anno di riflessione per pensare per confrontarsi era una proposta che veniva fatta in tempi più più rapidi prima viene adesso strutturata meglio e in qualche modo vuole essere un percorso che può accompagnare verso questa servizio questa proposta di servizio che viene appunto in questo modo maggiormente curata è seguita prima di chiudere qualche nomina particolare Augusto che vogliamo ricordare brevemente vogliamo così anticipare approfittiamo del vostro spazio solo per segnalare che Don Agostino Valentini che è stato nostro direttore settimanale lascerà la parrocchia di Mezzocorona per tornare nella sua Valle Rendena e quindi sarà sostituito dal Monsignor Giulio Viviani che diventerà parroco di Mezzocorona quindi diciamo torna nella sua terra ecco Don Agostino Valentini naturalmente che salutiamo davvero abbiamo lavorato insieme quando appunto allora era direttore del settimanale grazie allora grazie Augusto di essere stato con noi ringraziamo il giornalista Augusto Goio di Vita Trentina